C'erano quasi tutti, mancavano solo assisi e comuni del Ternano, alla riunione ieri pomeriggio a Gualdotadino dei sindaci di centrodestra dell'Umbria. Ansideri di Bastia Umbra come Tesei di Montefalco, Bontempi di Nocera come Colette di Sigillo, Verbena di Deruta come Mastini di Torgiano e poi ancora Collazione e da Foligno il capogruppo PDL in consiglio comunale Meloni. Tutti insieme a Morroni di Gualdotadino a dire no alla Tares, la tassa sui servizi urbani, inclusiva anche della vecchia Tarzu sui rifiuti, che entrerà in vigore con la prima rata 2013 il prossimo luglio. A coordinare i lavori il senatore PDL Luciano Rossi e il neocoordinatore del partito in Umbria Rocco Girlanda. Due problemi della Tares. Il primo sarà un salasso per famiglie di imprese, specie commerciali con un rincaro del 30% rispetto al 2012. Secondo, la prima rata fissata a luglio. La Tarzu era scaglionata in tre, quattro rate lungo l'intero corso dell'anno. Fa sì che i comuni sino ad allora non introtteranno alcune imposta comunale, creando gravi problemi di liquidità alle casse pubbliche. Da qui la richiesta di questi amministratori di rinviare l'applicazione della nuova tassa minimo al 2014. Il dato di fondo è che andiamo ulteriormente ad appesantire il carico tributario nei confronti di un tessuto sociale, di un tessuto economico e commerciale che non è in grado di sostenerlo. Noi riteniamo che sia necessario imprimere una svolta immediata su questo fronte. Le prospettive di rilancio del Paese passano inevitabilmente attraverso un'inversione dirotta sul fronte della pressione fiscale e tributaria. Quindi noi vorremmo che parta dall'incontro di oggi un'iniziativa da trasferire in sede di Anci regionale e poi da trasferire sul piano nazionale che conduca ad uno slittamento dell'applicazione della taressa al 2014. Ma non solo una dilazione del tempo di applicazione, ma anche nel contempo l'inizio di un cantiere di rivisitazione perché non possiamo dare un ulteriore elemento di pressione fiscale alla gente. L'incontro di Gualdo è servito ai sindaci anche per fare il punto sul sistema rifiuti in Umbria che di fatto viene bocciato a larga maggioranza per qualità del servizio, costi e veri e propri potentati politici che negli anni si sono costruiti nel settore. Dentro queste gestioni non c'è un privato vero, ma c'è un privato politico che di fatto amministra le risorse pubbliche con approfittamenti vari e con un livello di qualità di soddisfazione mediocre se non modesto facendo pagare poi tutto questo alle amministrazioni e di conseguenza ai cittadini. Tass, tasse. Abbiamo raggiunto un livello ormai inaccettabile e di conseguenza su questo il Popolo della Libertà ma noi parlamentari dell'Umbria faremo sentire la nostra voce sia alla Camera che al Senato. Quanto all'incontro di Gualdo, è solo il primo di una serie che il PDL Umbro ha messo in campo con il fine di ascoltare i cittadini e gli amministratori e stilare un'agenda comune da portare avanti. È stato uno dei primi impegni da coordinatore regionale del nuovo corso del coordinamento regionale del Popolo della Libertà in Umbria ossia dare molta voce agli eletti che sono un po' i nostri alfieri nei territori perché noi siamo convinti che il buon governo delle regioni dell'Umbria sia stato per troppo tempo lasciato un po' quasi nell'ombra nel senso perché comunque abbiamo una regione particolare dove ovviamente è predominante il numero di amministrazioni in mano al centro-sinistra invece le nostre sono molto all'avanguardia, molto capaci, molto forti nell'ambito dei servizi ai cittadini e soprattutto nell'assoluta restrizione della questione della tassazione locale. e quindi per questo come coordinatore regionale, il nuovo coordinamento regionale avevo preso questo impegno, oggi è la prima prova di questo ossia di riunire i sindaci per capire che cosa hanno da dire e poi portare questo tema al centro della politica del Popolo della Libertà in Umbria.